Chiederei principalmente di denunciare i casi di cui la Santa Sede è a conoscenza, di aprire gli archivi riguardanti ai casi di pedofilia, di aprirli alla magistratura, di consegnare questi archivi alla magistratura e di iniziare una seria e efficace prevenzione. Perché l'Italia grazie alle leggi inefficaci e questi accordi tra Stato e Chiesa rischia, non rischia, è un vespaio di pedofili, in quanto è il paese nel quale un pedofilo riesce a sfuggire più facilmente. La storia parte da gli militanti, come diceva, e mi sono stata puntata a notte che gli militanti già si sapevano questo pedofilo. La storia è una responsabilità moral per ascoltare questo, ma, ovviamente, al final del giorno, la storia deve parlare la sua propria risposta sull'ambito. E, ovviamente, è importante per le persone ascoltare la storia. Quindi, penso che è una forma di rispettare l'altro. La storia è una forma di rispettare l'altro.